I prezzi di stimezzi alti come l'appressore, le scuole cadono a pezzi come il mio cuore più mi disprezzi io rispondo con un testo, mentre contesto il ministro dell'istruzione se i vettegolezzi causano il mio rancore, dimmi che mi apprezzi quando perdo la ragione è inutile trovare la maschera perfetta, scendo in piazza con la maschera di interventetta e lo sai non siamo soli nella più grande rovina, ci troviamo la mattina in cairori venerdì 4 ottobre, tu non mancarci, ci svegliamo alle 9, abbiamo un motivo per alzarci ci vediamo venerdì 4 ottobre, 9 e mezza, largo cairan